6 reti al canosa e tutto ma proprio tutto nel segno di capitano flora la rossa la polisportiva bitonto continua a volare e nel terzo turno di campionato ha avuto la meglio sulle barlettane di mister michele depia con un netto e perentorio 6 a 1 punteggio però che non rende giustizia a una compagine quella canosina mai arrivata alle barricate e che se l'è giocata finché ha potuto la contesa però ha detto nero verde per tre motivi 1 la giornata da superstar del numero 10 che ha preso per mano le compagne quando ne avevano bisogno e non le ha più lasciate 2 perché il bitonto per oltre 50 minuti è stato superiore alle avversarie 3 l'aver segnato la terza e la quarta marcatura a un alito dal tercaldo e a principio di ripresa la partita allora è di semplice lettura primi 10 minuti meglio il canosa e meritatamente in vantaggio con guercia dopo una palla rubata a chiara russo poi le loncelle escono come un motore a diesel e non c'è scampo assegno minafra tre volte la rossa già a 6 centri in campionato russo e azzarino più una traversa un palo tanta qualità innumerevoli parate di frutti bene 9 punti su 9 19 reti messe a segno e soltanto 2 subite primo posto solitario questo bitonto viaggia già da paura e domenica il dì dei santi medici arriva il fasano a a a a a a a